Oggi ho selezionato per voi un concime per agrumi e limoni che può essere utilizzato tutti i mesi dell'anno. Quindi lo possiamo utilizzare per i limoni, aranci, mandarini e agrumi in generale. Questo prodotto favorisce un maggiore sviluppo dell'apparato radicale. Come sappiamo, avere un apparato radicale ben sviluppato è un fattore chiave per la salute e la produttività delle piante. Oltretutto, un apparato radicale sano aiuta la pianta a far fronte a condizioni avverse, riducendo gli stress dovuti a sbalzi termici e squilibri idrici. Poi incrementa la fioritura riducendo la famosa cascola, ma in generale permette di ottenere una produzione di qualità. Prima di continuare, volevo invitarvi a lasciare un like e a iscrivervi. La maggior parte di voi guarda i video, ma non si iscrive. Se lo faceste, avremmo l'opportunità di creare molti più contenuti. Grazie mille e buona continuazione. Il misurino in dotazione ci aiuta nella somministrazione. Riempiendolo, dobbiamo diluirlo in 4 litri di acqua. Possiamo utilizzarlo una volta al mese da novembre a febbraio, poi da marzo a ottobre se ne può aumentare la quantità. Si può applicare anche per via fogliare, diluendo 4 grammi in un litro d'acqua e spruzzandolo sulle foglie. Come sappiamo, la concimazione fogliare è una tecnica di nutrizione delle piante che prevede l'applicazione di fertilizzanti direttamente sulle foglie, il che aumenta l'assorbimento degli elementi nutritivi più rapidamente rispetto a quelli somministrati al terreno, consentendo una risposta più immediata della pianta, soprattutto in situazioni di carenze acute. Questo concime è consentito in agricoltura biologica ed è un fertilizzante liquido organico ottenuto dalla decomposizione di sostanze organiche. Se volete saperne di più, lascio il link del prodotto nel primo commento o nella descrizione. Grazie della visione e al prossimo video! Grazie a tutti!